Giacomo, capitolo 1. Questa mattina Giacomo, capitolo 1. Leggerò dal versetto 19 al 21. Giacomo 1, dal versetto 19 al versetto 21. Giacomo scrive, Questa mattina tre soli versetti, tre versetti importanti per noi figli di Dio. Tre versetti cruciali per i credenti, che forse abbiamo letto decine, centinaia di volte. E la mia preghiera è questa mattina che questi versetti possano perentrare nei nostri cuori. Giacomo scrive questa lettera dei credenti. E nel scrivere questa lettera dei credenti, Giacomo si focalizza sulla vita dei credenti. E Giacomo presenta la vita pratica, la condotta, l'atteggiamento di coloro che professano di avere fede in Cristo. Giacomo ci spiega attraverso questa lettera cosa significa essere salvati per grazia in Cristo Gesù. Cosa significa avere fede in Cristo? Come si comporta il credente? Che testimonianza dà colui che è figlio di Dio? Ora, per l'ennesima volta voglio dirlo, non siamo perfetti. Giacomo non parlerà di perfezione, perché Giacomo sa benissimo che lui stesso non è perfetto. E Dio ci ha salvato per grazia, ha salvato noi miseri peccatori per grazia. Ma questa lettera evidenzia come vive colui che Dio ha salvato. Giacomo ha parlato di diverse cose già nei primi versetti. Dal 12 al 12, dal 2 al 12, scusate, Giacomo ha parlato delle prove del credente. In che modo il credente affronta le prove, le circostanze difficili? Le prove che Dio usa come mezzo per la nostra crescita spirituale? Come reagiamo alle prove? Non solo Giacomo ha parlato anche della natura delle tentazioni. Come rispondiamo alle tentazioni? Accusiamo Dio? Incolpiamo Dio? Giacomo ha detto, nessuno quando è tentato dica, son tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male. E lui stesso non tenta nessuno, Dio opera per la nostra crescita, non per farci peccare, ma sono i nostri desideri, peccaminosi, la sorgente delle tentazioni. Giacomo ci ha mostrato l'importanza di esaminare i nostri desideri. Solo quando affronteremo i nostri desideri riusciremo ad affrontare le tentazioni. Ma Giacomo ha proseguito dal 16 al 18, Giacomo ha chiarito chi è Dio. Prima ha chiarito che non è Dio responsabile delle nostre tentazioni. Al contrario, Dio, Giacomo ha specificato, è la sorgente di ogni cosa buona e di ogni dono perfetto e ha poi presentato uno di questi doni, ovvero la rigenerazione. Dio non è responsabile delle nostre tentazioni, ma è responsabile, è l'autore della nostra rigenerazione. Il credente è il frutto dell'opera di Dio. Infatti Giacomo ci ha spiegato chi è l'autore della rigenerazione, Dio. Per quale ragione Dio ci ha rigenerati? Per la sua volontà. Non perché eravamo predisposti rispetto ad altri. E non perché ha visto in noi qualcosa di meglio. Dio ci ha rigenerati. Ci ha fatti nascere di nuovo. Nella sua volontà è per mezzo della parola di Dio, per mezzo del Vangelo. Il Vangelo è il mezzo per la nostra rigenerazione. E quello è lo scopo? Affinché siamo le primizie di Dio. Noi siamo la testimonianza dell'opera di Dio in attesa della futura glorificazione e del nuovo cielo, nuova terra. Noi siamo stati creati da Dio in Cristo Gesù. Non solo siamo sue creature, come il resto di tutti gli uomini, creati in immagini di Dio, semiglianze di Dio, ma siamo stati creati in Cristo Gesù. Giacomo ha voluto chiarire che il credente è tale non semplicemente perché un giorno ha deciso di esserlo, certamente un giorno ha rimesso la fiducia in Cristo, ha desiderato di fare ciò, ma ha fatto ciò perché Dio ha compiuto un'opera in Lui. Dobbiamo parlare di ciò per non confondere la fede salvifica, la fede in Cristo, con la fede che hanno tutti i religiosi. Il credente è il frutto dell'opera di Dio. Dio è la sorgente della nostra salvezza. E sapete, parlare di rigenerazione è fondamentale in questa lettera, perché parlerà di fede e di condotta. Un religioso non potrà mai mettere in pratica ciò che Giacomo insegnerà. Sarà frustrato, non riuscirà, è impossibile, ma se siamo rigenerati possiamo vivere ciò che Giacomo ci dirà. Quindi Giacomo mette a luce che il credente è salvato, rigenerato, e di conseguenza ci chiarirà come vive colui che è rigenerato. Qual è la vita che caratterizza coloro che Dio ha salvato? Dio che ha iniziato un'opera in noi. La nostra fede è il frutto dell'opera di Dio. In Filippesi 1,29 Paolo disse perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Non soltanto di credere. Chi crede, crede perché Dio gli ha concesso la grazia. La fede è un dono di Dio come risultato di questa opera di rigenerazione. Giacomo ha messo in luce che il mezzo per la nostra rigenerazione è la parola di Dio. E ora Giacomo, nei prossimi versetti, si sofferma sull'importanza della parola di Dio nella vita del credente. Coloro che Dio ha rigenerato mediante la parola vivono secondo la parola di Dio. Se la parola è il mezzo della loro salvezza, la parola sarà il mezzo per la loro santificazione. Dopo aver specificato che il mezzo per la nostra rigenerazione è la parola di Dio, ora Giacomo ci esorterà ad ascoltare la parola e a riceverla con umiltà. Nulla di scontato. Giacomo, con degli imperativi, esorta i credenti ad ascoltare la parola e a riceverla con umiltà. Vedremo quindi l'importanza della parola di Dio nella vita dei credenti. Iniziamo con i primi due versetti. Ascoltare la parola. L'ascolto della parola. 19 e 20. Giacomo inizia dicendo Sappiate questo, fratelli miei carissimi. Giacomo usa questa frase più volte, fratelli miei amati, letteralmente. Giacomo sta esortando, ma Giacomo ama i suoi fratelli in Cristo. Giacomo esorta costantemente, ma ha affetto, amore. Ed esorta con misericordia coloro che sono in Cristo. E ora esorta a fare qualcosa di fondamentale. Perché dice, sappiate questo. Siate a conoscenza di questo, fratelli miei amati, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Che ogni uomo sia letteralmente sia veloce, veloce ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Dopo aver parlato di rigenerazione, mediante la parola di Dio, ora esorta i credenti rigenerati ad essere veloci ad ascoltare, lenti a parlare e lento all'ira. Quando parla di ascoltare, qui non sta parlando semplicemente di ascoltare gli uni e gli altri nella relazione quotidiana. Il riferimento qui è l'ascolto della parola di Dio. Versetto 21 vedremo che dirà, Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola. In questo contesto esorta ad essere veloci ad ascoltare la parola di Dio. E si riferisce non tanto all'azione, a essere veloci, ma all'atteggiamento. Essere veloci e pronti ad ascoltare la parola di Dio si riferisce all'atteggiamento, al nostro approccio nei confronti della parola, al nostro rapporto con la parola, nel contesto si riferisce all'ascolto della parola di Dio. Ovvero ci esorta ad essere desiderosi, desiderosi di ascoltare la parola, desiderosi di essere sottomessi alla parola, di essere istruiti mediante la parola, di essere nutriti dalla parola. Ecco cosa significa essere veloci ad ascoltare la parola. Questo è ciò che caratterizza i credenti. Desiderio profondo di ascoltare, di sottomettersi alla parola di Dio. Essere rigenerati da Dio mediante la parola implica un profondo desiderio di sottomettersi alla parola di Dio. Infatti non dice solo di ascoltare, ma di essere pronti, veloci ad ascoltare, di desiderare di ascoltare la parola, di meditarla, di leggerla, di essere nutriti. E dice ogni uomo, tutti indistintamente esortati ad ascoltare la parola. Ecco che la fede salvifica, come risultato dell'opera di Dio, conduce i credenti che hanno quella fede ad essere veloci, desiderosi, ad ascoltare la parola con umiltà. Cosa vuol dire? Vuol dire vivere la loro vita focalizzati sulla parola di Dio. Focalizzati sulla parola di Dio. La parola non riguarda semplicemente la domenica mattina o gli incontri di chiesa. La parola di Dio deve essere al centro della nostra vita quotidiana come credenti rigenerati. Essere veloci ad ascoltare, desiderosi di essere attenti alla parola. In Atti 2,42, in Atti 2, proprio all'inizio, quando nacque la Chiesa, Atti 2,42, Luca scrive che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Erano continuamente, dal greco, continuamente devoti all'insegnamento degli Apostoli. Erano devoti all'insegnamento. Cosa significa essere pronti ad ascoltare? Essere devoti all'insegnamento. Desiderare di essere istruiti, di ascoltare la predicazione della parola di Dio. Esorta prima di ogni cosa ad essere veloci ad ascoltare la parola. E poi aggiunge, Lento a parlare. Ogni uomo sia pronto, veloce ad ascoltare, lento a parlare. Anche qui si sta esortando. Quest'esortazione che riguarda la vita quotidiana non è semplicemente in un certo contesto che sei pronto ad ascoltare, lento a parlare, ma costantemente sia pronto ad ascoltare, sia lento a parlare. Per essere focalizzati sulla parola è fondamentale essere lenti a parlare. È fondamentale essere lenti a parlare. Cosa significa? Mettere da parte noi stessi. Mettere da parte i nostri pensieri, le nostre idee, e mettere al centro invece la parola di Dio? Probabilmente Giacomo era a conoscenza di questa problematica in mezzo ai credenti. Erano pronti a parlare. Infatti in Giacomo 3 dirà, pensate, fratelli miei, non siate in molti a far da maestri sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. C'era questo atteggiamento di voler parlare, di voler insegnare. Ma Giacomo esorta ad essere prima di ogni cosa, veloci ad ascoltare e lenti a parlare. Mettere da parte noi stessi, mettere al centro la parola di Dio, non significa che non possiamo più parlare, ma significa che al centro della nostra vita deve esserci la parola di Dio. Non i nostri pensieri, Purtroppo nella Chiesa Evangelica c'è molta enfasi sulle testimonianze, far parlare. Ora non c'è nulla di errato, ma se è al centro la testimonianza del credente, allora sì che c'è qualcosa di errato, perché al centro ci deve essere la parola di Dio, che ci istruirà sul come parlare, sul come esprimerci. E sapete, probabilmente in questo contesto, il riferimento è anche la tendenza di parlare nel contrastare la parola di Dio. La possibilità che il credente possa anche indirettamente parlare contrastando la parola, dicendo, sì, ma non credo che sia così, non dobbiamo essere troppo pignoli, ma, però, non capisci ognuno la sua storia quando qualcuno cita la scrittura. Fratelli, Giacomo esorta ad essere pronti e veloci ad ascoltare e lenti a parlare. Potrebbe esserci questa tendenza di parlare, di contrastare, di rigettare la parola di Dio. Giacomo esorta l'umiltà a riconoscere il bisogno di ascoltare, di crescere. Perché se siamo pronti a parlare e lenti ad ascoltare, non potremo crescere. Le due cose sono legate. La rigenerazione comporta una nuova condotta, una nuova vita. Questo desiderio di ascoltare, di nutrirsi della parola di Dio, di cibarsi di essere e di essere lenti a parlare, lenti a insegnare. Piuttosto fare dei passi indietro per ascoltare, per essere nutriti, più che presentarsi come degli insegnanti, una grande responsabilità. Non senti molti a far da maestri. Cosa ci motiva a parlare? Cosa ci motiva a insegnare? È la chiamata di Dio? È la volontà di esortarci con gli altri? O quel parlare sostituisce la parola di Dio? Questa è una nostra responsabilità. Dice sconcredente. Giacomo esorta noi ad essere pronti, veloci ad ascoltare, a sottometterci alla parola e lenti a parlare. la tendenza di contrastare la scrittura. Questo è quello che accade e che sento come pastore spesso. Credenti professanti che contrastano la scrittura e che rispondono alla scrittura in modo negativo, anziché ascoltando, dicendo sì, ma non siamo perfetti, non riusciamo a fare ciò che ci insegna la scrittura. Questo vuol dire contrastare. Giacomo ci esorta di essere lenti a parlare. Attenzione a non contrastare la scrittura. Attenzione a come parliamo. A cosa diciamo. E poi c'è un'altra esortazione. Che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Non solo lenti a parlare, ma lenti all'ira. Qui Giacomo condanna questo atteggiamento carnale, il racconto. L'amarezza, l'ostilità. E probabilmente anche qui nel contesto si riferisce a questa ostilità nei confronti della parola. Questa ira nei confronti di colui che proclama la verità. Nei confronti di quello che Dio rivela. Questa amarezza nei confronti della scrittura. Non solo l'ira nei confronti dei fratelli, ma anche nei confronti della parola di Dio. Che sapete, quando si è pronti a parlare, saremo pronti anche ad avviarci. Perché al centro non ci sarà la parola di Dio, ma ci sarà il nostro io, il nostro ego. I nostri pensieri che ci porteranno ad essere i racconti nei confronti della parola di Dio o nei confronti dei fratelli. E perché essere lenti all'ira? Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. L'atteggiamento di racconto non è conforme a ciò che è giusto. Non è conforme alla volontà di Dio. È già come esorta sulla base della giustizia di Dio. Quell'atteggiamento di racconto non è conforme a ciò che è giusto. Questo atteggiamento di racconto, questa ostilità che ci sarà, sapete, quando? Quando non c'è l'ascolto della parola, quando non c'è umiltà. se non c'è umiltà nella nostra vita, se non c'è l'ascolto della parola nella vita quotidiana, ci sarà questa prontezza nel parlare e questa ira. Questa amarezza, questa ostilità nei confronti della parola di Dio. Giovanni, Giacomo, Giacomo si sofferma sull'atteggiamento di coloro che Dio ha rigenerato e gli esorta ad essere pronti, veloci ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all'ira, ovvero essere pronti a focalizzarsi sulla parola di Dio, mettendo da parte se stessi. La parola di Dio non è un'alternativa, un'opzione per i credenti. Forse lo è per il religioso. Colui che professa di conoscere Cristo e poi mette da parte la scrittura è così, un religioso farà così, ma colui che è rigenerato, che ha un cuore nuovo, vuole cibarsi della parola di Dio. È fondamentale essere qui presente in Chiesa, negli incontri di Chiesa, perché non è un rito, è il momento in cui Dio ci parla, è il momento in cui Dio ci nutre e ci motiva a tornare a casa e a leggere la parola personalmente. Pronti, veloci ad ascoltare la parola, lenti a parlare, lenti a lira. Giacomo non è concluso. Giacomo non è concluso. Passiamo al secondo punto, versetto 20, versetto 21. Versetto 21, perché dopo quello che ha detto in questi due versetti, 19 e 20, alla luce di ciò, ora presenta un'applicazione. versetto 21, ricevere la parola con umiltà. Infatti dice, perciò, alla luce di quanto detto, alla luce di questa esortazione ad essere pronti ad ascoltare, lenti, a parlare, lenti all'ira, perciò ora esorta a ricevere, dice, con dolcezza la parola. Ricevere con dolcezza. Vediamo fra un attimo che quel termine dolcezza o mitezza in questo contesto si riferisce all'umiltà. Ricevere con umiltà la parola. Ricevere con umiltà la parola. Qui comprenderemo meglio cosa intende dire Giacomo quando esorta ad ascoltare. Ricevere la parola con umiltà. Ma, fratelli, prima di poter ricevere la parola con umiltà c'è qualcosa che noi dobbiamo fare, fratelli. Ascoltate quello che Dio dice attraverso Giacomo. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia. Prima di poter ricevere la parola con umiltà è fondamentale fare qualcosa. fratelli, questo è fondamentale. Prima di ricevere la parola con umiltà vedremo cosa significa. È fondamentale deporre ogni impurità e residuo di malizia. L'aspetto è fondamentale. Questo termine deporre che significa mettere via, gettare via che troviamo in diversi versetti. Per esempio in Efesini 4, 22 avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo. Oppure Colossesi 3, 8 quando dice ora invece deponete anche voi tutte queste cose ira, colera, malignità, calugna e non vi escono di bocca parole oscene. Vuol dire spogliarsi vuol dire gettare via, mettere via è nostra responsabilità e dice che cosa? Ogni impurità e si riferisce a qualsiasi sporcizia immorale di qualsiasi tipo deporre, mettere via qualsiasi genere di sporcizia immorale e poi aggiunge ogni residuo di malizia. Il termine residuo è interessante perché è usato spesso nella maggior parte delle volte nel Nuovo Testamento con questo significato abbondanza e probabilmente anche qui il riferimento è l'abbondanza. Qui parla a dei credenti dicendo che devono deporre ogni impurità e ogni malizia ovvero malvagità e corruzione sta parlando dei credenti siamo salvati per grazia ma siamo ancora peccatori e qui parla di impurità e di malizia il termine si riferisce a malvagità e corruzione la presenza del peccato nel cuore dei credenti Giacomo esorta i credenti a spogliarsi di ogni forma di impurità e di malvagità a spogliarsi del peccato è un nostro compito colui che Dio ha rigenerato è chiamato a mettere da parte qualsiasi forma di peccato nella sua vita è un nostro compito cosa vuol dire essere rigenerati e salvati vuol dire sederci qui e contemplare la grazia di Dio perché tanto siamo perdonati in Cristo salvati per l'eternità e poi Dio è un Dio buono che ci perdona no colui che è rigenerato che ha un cuore nuovo è chiamato con responsabilità a mettere via il peccato ogni forma di peccato impurità malvagità che lui conosce peccati interiori nascosti dagli altri ma che lui conosce ecco cos'è il vero ravvedimento fratelli cosa vuol dire ravedersi vuol dire confessare peccati e vuol dire abbandonarli ci siamo dimenticati della seconda parte si fa quello che fanno un po' le persone con i preti vanno lì confessano i peccati escono e sono come prima questo non è il ravvedimento il ravvedimento è abbandonare deporre gettare via ogni forma di peccato di impurità e spetta colui che è rigenerato anziché attendere in modo mistico l'intervento di Dio o quanta passività che c'è nella Chiesa qui parla a noi credenti e dice a me a voi di mettere da parte il peccato non sta dicendo prega finché Dio un giorno se riuscirà eliminerà questo vizio questa idolatria ma dice Raffaele esamina te stesso e deponi ciò che conosci che è peccaminoso prima di ricevere la parola non cerchiamo la scorciatoia andiamo la parola pregando signore o per me attraverso la parola però poi ci sono peccati nella nostra vita perché non funzionerà Giacomo qui ci mostra che colui che ha fede e salvifica che è rigenerato nella grazia di Dio ha ora la capacità e la volontà di dire no al peccato fratelli mi era triste vedere credenti i professanti che non dicono no al peccato ma che dicono sì al peccato che vivono nel peccato che amano i loro vizi e che si giustificano e che sono una cattiva testimonianza e Giacomo ora ci riprende e ci istruisce fratelli fratelli mi era triste perché quello non è il Vangelo che conosco non prendiamo in giro Dio perché qui dice deposta ogni impurità e residuo di corruzione chi fa ciò sono io siamo noi è il credente rigenerato che è un cuore nuovo che ora in Cristo ha la potenza la capacità è il religioso che non ce l'ha è il non credente che non potrà mai dire no al peccato lo sappiamo quando eravamo non credenti noi eravamo schiavi del peccato c'era amore per il peccato ma se ora Dio ci ha rigenerati e c'è un cuore nuovo uno spirito nuovo noi vogliamo rigettare e mettere da parte il peccato Giacomo ci esorta a ricevere con umiltà la parola ora passiamo a quel momento importante questa frase ma prima di ogni cosa per poter ricevere la parola è fondamentale mettere da parte il peccato le scelte peccaminose perché saranno di certo un impedimento per l'opera di Dio e non usiamo la sua sovranità per dire ma Dio è sovrano posso io impedire la sua opera sì perché Dio ci responsabilizza o quante persone ho sentito dire Dio è sovrano e anche se sto peccando sta permettendo ciò mi guiderà ma questo è diabolico questo atteggiamento Dio è sovrano ma noi siamo responsabili e se non mettiamo da parte ogni impurità non cresceremo non cresceremo infatti ora esorta ricevete con umiltà la parola ecco esorta ricevere la parola qui capiamo cosa vuol dire ascoltare la parola cosa vuol dire ascoltare e ricevere vuol dire accoglierla vuol dire essere innamorati della parola vuol dire sottomettersi alla parola vuol dire desiderare di ubbidire alla parola ma se non deponiamo ciò che in puro non riusciremo ci sarà cicità spirituale anche per i credenti la rigenerazione mediante la parola implica questo approccio nei confronti della parola deporre ogni impurità deporre il peccato essere integri nella nostra vita se non siamo disposti a mettere da parte il peccato fratelli esaminiamo la nostra fede e ve lo dico con tutto me stesso come pastore se non siamo disposti davanti alla croce di Cristo al sacrificio di Cristo Gesù il quale è morto per i nostri peccati se non siamo disposti a dire no al peccato c'è qualcosa che non va nella nostra vita spirituale Cristo è morto per i nostri peccati e Dio ci ha rigenerati e ora possiamo affrontare il peccato saremo perfetti? No ma saremo capaci diranno peccato sì perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia ricevete con umiltà con umiltà la parola ci esorta ad ascoltare la parola a nutrirci della parola a lasciare che Dio opri attraverso la parola a lasciarci guidare attraverso la parola voglio leggervi alcuni versetti che abbiamo già studiato il salmo 119 per ricordarvi quello che disse un credente un santo dell'antico testamento riguardo alla parola di Dio non ci sono scuse nella nostra vita fratelli per dire ah ma io non potrò fare questo ascoltate colui che era nella prova nella difficoltà rischiava di morire salmo 119 alcuni versetti 20 l'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo per il desiderio della tua parola si consuma l'anima mia 72 la legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento 103 oh come sono dolci le tue parole al mio palato sono più dolci del miele alla mia bocca 111 le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre esse sono la delizia del mio cuore 127 perciò io amo i tuoi comandamenti più del loro più del loro finissimo 162 gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino odio e detesto la menzogna ma amo la tua legge sono alcuni versetti il salmista nella prova che ama la parola di Dio che desidera la parola di Dio desidera essere guidato ma per ricevere con umiltà la parola è fondamentale mettere da parte ogni impurità ogni forma di peccato nella nostra vita che sarà di impedimento per la nostra crescita il credente non potrà ricevere propriamente la parola se prima non depone il peccato se prima non si spoglia del peccato ricevere la parola vuol dire lasciare che Dio opri mediante la sua parola per santificarci ma prima dobbiamo gettare via il peccato qualsiasi forma di peccato desiderare di essere sottomessi alla parola ecco Dio ci ha rigenerati l'opera salvifica la sua ma dopo la rigenerazione c'è una nostra responsabilità vi mostro una cosa in Prima Pietro 1 Prima Pietro 1 Pietro parla di rigenerazione e poi vedete cosa dice Pietro al capitolo 2 iniziamo dal versetto 23 del capitolo 1 perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile cioè mediante la parola vivente permanente di Dio infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba l'erba diventa secca il fiore cade ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata e poi dice sbarazzandovi di ogni cattiveria di ogni frode dell'ipocresia delle invidie e di ogni maldicenza come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza se davvero avete gustato che il Signore è buono dopo aver parlato di rigenerazione di cosa parla della nostra responsabilità di mettere da parte ogni cattiveria qui il termine è lo stesso gettare via deporre ogni cattiveria ogni frode ipocrisia nostra responsabilità perché Dio ci ha rigenerati e ora abbiamo un cuore nuovo se siamo rigenerati abbiamo la capacità ma c'è la volontà da parte nostra Giacomo ci esorta a ricevere la parola dopo aver deposto ogni impurità ogni malvagità la parola di Dio deve essere al centro della nostra vita non i nostri desideri al centro della nostra vita Giacomo specifica ora qualcosa riguardo la parola di Dio ascoltate quello che specifica ma è ridioso perciò deposto ogni impurità e residuo di malizia ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi coloro che Dio ha rigenerato hanno dentro di loro la parola di Dio piantata è come un seme il seme incorruttibile di cui Pietro ha parlato prima Pietro 1.23 che Dio ha piantato nel nostro cuore la parola è piantata in noi non è secondaria nella nostra vita è dentro di noi se Dio ci ha rigenerato attraverso la parola e la parola è nel nostro cuore di conseguenza ci esorta ad ascoltarla perché è in noi è piantata in noi e non solo è che può salvare le anime vostre è anche in grado di salvare la nostra anima la parola la salvezza è possibile grazie alla parola di Dio abbiamo visto rigenerati mediante la parola di verità e ora parla di salvezza e qui si riferisce non solo all'opera iniziale di Dio ma all'opera finale la futura glorificazione la certezza della nostra salvezza è possibile grazie alla parola che è piantata in noi quale gioia siamo certi della salvezza perché Dio ha piantato questo seme la sua parola mediante la quale ci ha rigenerati coloro che Dio ha rigenerato mediante la parola e che hanno la certezza della salvezza ora sono chiamati a riceverla ad accoglierla ad ascoltarla quante volte ho parlato con dei credenti dove quasi sembra che la parola di Dio sia secondaria non dobbiamo essere troppo troppo attaccati alla parola di Dio ma la parola è stata piantata in noi ed è il mezzo per la nostra rigenerazione e per la nostra salvezza la certezza della nostra salvezza è possibile grazie alla parola di Dio piantata in noi pensate a coloro che pensano che si possa perdere la salvezza si sono dimenticati di un pezzo la salvezza è possibile perché è Dio che ci ha rigenerati ed è Dio che ci preserva dalla caduta grazie alla parola che è in noi e noi come credenti potremmo vivere senza ricevere e ascoltare la parola sarebbe totalmente incoerente per colui che è rigenerato e che ha la parola nel suo cuore non ascoltarla non riceverla con unità in questi tre versetti questa mattina Giacomo ci ha esortati in modo chiaro nessuno può dire che non c'è chiarezza attraverso questi versetti in modo chiaro ci esorta ad essere ascoltatori ad ascoltare la parola ad essere pronti a nutrirci di essa ad essere desiderosi di ascoltare l'insegnamento della parola anziché fare altro che ci consuma la mente usare l'insegnamento per riempire il nostro cuore della sua parola per nutrirci in questi versetti l'enfasi è sulla centralità della parola nella nostra vita fratelli è impossibile per un credente rigenerato non avere desiderio di ascoltare la parola di Dio essere distratto guardare l'orologio magari di incontri in chiesa è un religioso che fa così un credente desidera essere nutrito questo è un momento prezioso perché è un momento in cui Dio mediante il suo ospito ci fortifica ci corregge ci esorta ci nutre e ci ricorda ciò che è scritto nella scrittura ma che spesso rimane dentro la Bibbia chiusa in un ripiano a casa nostra l'enfasi in questi versetti è sulla centralità della parola mettere al centro la parola di Dio nella nostra vita mettere da parte noi stessi lenti a parlare e lenti all'ira mentre si è pronti a parlare si è pronti a insegnare si è pronti ad essere anziani di chiesa subito perché mi piace insegnare ma questo è terremamente errato Giacomo ci esorta prima di ogni cosa di essere pronti ad ascoltare pronti ad essere nutriti a crescere affinché sia Dio Dio a chiamare all'insegnamento perché è una grandissima responsabilità per me essere qui l'enfasi sull'ascoltare la parola mettere al centro la parola e mettere da parte noi stessi quante volte potremmo anche in modo indiretto essere arrabbiati con Dio ostili avere amarezza nei confronti della parola di Dio perché le cose non vanno come vorremmo la scrittura ci esorta ad essere pronti ad ascoltare ad essere pronti a dire così cosa dice la scrittura anziché dire secondo me non è proprio così non mi convince questo e non è tanto semplice però un conto è dire un conto è farlo cosa dice la scrittura cosa dicono le scritture questo non è essere pignoli questo è essere rigenerati da Dio perché quella parola che Dio ha piantata nel nostro cuore e che Dio ha usato per rigenerarci che Dio usa per preservarci dalla caduta per giungere alla glorificazione e che Dio usa per santificarci Gesù nella sua preghiera al padre Giovanni 17 pregando per gli apostoli disse queste parole non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella verità la tua parola è verità Dio ci santifica mediante la sua parola ma questo quando accadrà quando ascoltiamo la parola quando siamo davvero sottomessi la parola quando la riceviamo con umiltà dopo aver messo da parte ogni forma di peccato proprio come scrive anche Paolo Romani dove uso lo stesso termine Romani 13 quando dice questa parola la notte avanzata il giorno è vicino gettiamo stesso termine gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce comportiamoci onestamente come in pieno giorno senza gozzoviglie e ubriachezze senza moralità e distrutezza senza contese e gelosie ma rivestitili del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri e poco prima dice e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale e ora ormai che vi svegliate dal sonno perché la salvezza adesso ci è più vicina di quando credemmo svegliarsi dal sonno sono spirituale fratelli che non ci sia passività nella nostra vita non aspettiamo che Dio operi nella nostra vita togliendo peccati che noi desideriamo commettere perché è il nostro compito è una mia responsabilità è una vostra responsabilità è il nostro compito e non aspettiamoci che Dio operi nella nostra vita attraverso la sua parola che ci santifichi se non c'è la volontà da parte nostra di deporre ogni impurità è un nostro compito è una nostra responsabilità e Paolo ci esorta a svegliarci dal sonno così come Giacomo ci esorta a deporre ogni impurità ogni residuo di malizia per ricevere con umiltà la parola di Dio Giacomo ci esorta ad essere ascoltatori della parola non significa semplicemente essere qui ascoltare la predicazione che questa è forse la parte più semplice significa che nella nostra vita quotidiana nella nostra vita quotidiana c'è la prontezza di andare alla parola le scelte che faremo nella nostra vita perché agiamo in un certo modo quali scelte facciamo come parliamo come ci comportiamo tutto cambierà quando saremo ascoltatori della parola non fermiamoci ad essere ascoltatori semplicemente con orecchie ma con il cuore che ci sia l'umiltà da parte nostra di ricevere questa correzione questo insegnamento e di mettere in pratica perché sapete Giacomo vedremo la prossima settimana parlerà di mettere in pratica la parola e di non ascoltarla soltanto essere pronti ad ascoltare che significa mettere in pratica sottometterci alla parola di Dio riceverla con umiltà mettendo da parte ogni forma di peccato della nostra vita questa è la nostra responsabilità e lasciamo che Dio operi potentemente mediante la sua parola per santificare di Dio